Ascoltando che ci metti la camera intorno I nostri peperoni Non il pennarello A noi ci serve il pennarello Ok Dicci che viene che tra poco mangiare Adesso prendo la canna e si scrive Mauro Sulla canna, quella che hai fatto tu, ti ricordi? Ci scrivi Mauro e l'hai spina Attenti Sono 20 cm di sotto Almeno 20 cm Io li sono andati, sono così, sono sempre venuti Ah, dobbiamo fare la forma di barca Quando vedete l'orto mio poi dite scusa Grande Grande Andrè 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 Te lo calco Andrè Coltivatori diretti o indiretti? Mauro e Claudia, voi siete diretti o indiretti come coltivatori? Indiretti 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 Claudia? Direttissima Direttissima Andrè 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 Andrè